e niente non potrei mai saperlo e c'è il suo ti conviene di avviare il computer va a vedere quanto iscritti c'è adesso quanti ne hai? ora ho controllato ce l'abbiamo fatta ragazzi diventa ricco diventa ciccio gamer voglio fare un piccolo discorso aspetta che prendo l'acqua così mi asciugo le lacrime voglio fare un piccolo discorso grazie a tutti a tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto da quando ho iniziato ad oggi che siamo arrivati a 1000 iscritti che ora sono a 22.47 aspetta che mi segno anche gli secondi c'è la tv che mi chiama vai tranquillo Kartal comunque io vi ringrazio ragazzi perché grazie davvero ad Alex non so cosa hai fatto cos'è che è successo Alex? no in realtà ho visto il commento di Christian che ha scritto auguri ciccio per i 1000 iscritti allora cos'è che è successo Alex? tre commenti ho visto allora ho controllato di persone effettivamente ne hai 1000 adesso ah pensavo di fare qualcosa tu Alex adesso Alex gli devo fare qualcosa devo regalare gli altri 10.000 iscritti finalmente ti sentiamo Fabio ok ho riavviato sentite ma anche tu adesso cosa è successo alle 22.48 dopo due ore e due di live 1000 iscritti per Ciccio 1911 youtuber del Brescia poi adesso salentando tutti i nostri veterani Andrea Capo con questi 1000 iscritti auguri Ciccio grazie Andrea gentilissimo io quando sentivo l'entrazo mannaggia grazie ragazzi grazie a tutti per il supporto gentilissimi continuiamo così a crescere e continuiamo a portare la serie B il calcio che fa bene a tutti anche oggi grande supporto in live gentilissimi tutti grazie di tutto io non so come ringraziarvi sono davvero contento per questo traguardo perché penso che 1000 iscritti magari per me per alcuni sono pochi ma per me è un grande traguardo perché non li fanno tutti 1000 iscritti adesso è incredibile perché Fabio è rimasto l'unico che non ha 1000 iscritti in questa sera piano 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 c'è l'era no perché stavo dicendo io gli senza monetizzazione senza 1000 iscritti e invece e invece no scherzo Fabio te rimeriti 1000 iscritti con tanta costanza ci arriverai sicuramente sicuramente perché te rimeriti grazie sicuramente mi metto a piangere fra due minuti appena stacchiamo no vabbè ah 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 beh facciamo i saluti finali siamo ancora a otto grazie a tutti degli auguri grazie siamo a 31 like va benissimo va benissimo grazie ehm vi ringrazio ringrazio di nuovo i miei ospiti eh Filo Cartal Alex e Fabio grazie a te grazie a te ciccio guardate ragazzi dico un'ultima cosa poi facciamo fare gli ultimi saluti ehm io vi dico di iscrivervi a tutti i ragazzi della serie più aspetta che ho messo il link qua sotto la descrizione devo leggere che non mi ricordo eh che sto capendo più niente Alex Maverick lecce ragazzi Filo YouTube lecce Fabio Biancorlo Clomo il Davo 1903 Cremonese 1909 solo Pisa il tifoso del Pisa Portia 92 Benevento Cartal del Perugia iscrivetevi a tutti i canali ragazzi e continuiamo così grazie a tutti i ragazzi volete fare gli ultimi saluti poi io stacco grazie a te che io devo scappare grazie mille grazie per l'invito auguri per i mille iscritti sono divertito a parlare con voi di Serie B spero di farlo ancora in futuro e noi ci diamo magari non so quando mi invito io sono sempre qua a parlare con voi di Serie B ciao ragazzi grazie ciao grazie alle mie garanzie perché Filo YouTube e Alex Maverick garanzie sulla Serie B assolute che troppo esperti troppo simpatici e sono sempre onorato di averli in line con me grazie a te Ciccio è stato un piacere comunque è tale che qua Fabio un altro iscritto per te io sono iscritto a tutti a parte Fabio che mi iscrivò a fine live mi raccomando grazie faccio finire ragazzi scusate vi ho interrotto diecimila volte dicevo grazie a te Ciccio mi è piaciuto ancora una volta parlare qui live con te confrontarmi con altri tifosi